We'll make it happen, we'll turn it around, yes we're going to make a story Emmy, ci siamo! Inizia la prova! Che prova? Una volta attraversate le colonne del capitano devi affrontare la prova Dovrai sconfiggere il pokemon dominante noto come demone del mare Ma stiamo scherzando Sento rombi di tuoni La prova si è spaventato, no pipi non ti preoccupare Ma si può navigare con sto tempo, ma io dico Oddio Wishiwashi Ma stiamo scherzando? Si è fatto così? Raga ma che paura Raga ma io ho due pokemon e zero revitalizzanti Ma dove vado? Dove vado esattamente? Non lo so E prendo il potere Z Sì Inizia di sì Vediamo che succede Ma sei nudo? No Che paura Che paura E non me li davano i revitalizzanti per questa miseria Dai sembrava potentissimo Non gli ho fatto niente Certifico un pokemon E' di tipo acqua Non faccio niente Siamo un alleato pure Sono andato raga Ora torno eh Allora si ricarichiamo tutto Ok evitato tutto evitato tutto Ok torniamo ancora giù E ma in teoria siamo Ok sì Sì ci siamo Che paura Una paura matta Rombi di duoni La prasa si spaventa Un po' anche io Paura Ho pure un alleato Chiami Ma questa è proprio Pretesa No come si dice E mi deve sbattere al rò sul suo potere Terribile che io posso fare un pokemon solo Ecco Manco uno Raga ma io come la supero questa prova? Scusate Chiedo eh E se puntassi su un tipo acqua? Anche se anche lui è acqua Però le acque sono potenziate No raga Non si può fare sta cosa Terribile con un pokemon elettro erba Hai capito? Un po' come un becco Non credo di avere niente nel box Promo che muoio Vediamo Eeeh La cera mi fa niente Volevo puntare all'altro Va bene insomma Ma inizio che posso fare? Perché no? Sta capito Eeeh Promo a confonderlo Ma pure la bacca si mangia Ma io dico Già stai a palla Ne rimangono due Uh Che bello Che bello Che bello Vai Tutta tua Evviva Evviva Poniamo fino alla sofferenza Evviva Allora Eeeh Dov'è? E' questo il pc? Dai Hanno risparmiato un po' con lo spazio Ah erba Cioè che togliamo un tipo d'acqua Ma togliamo Patrick Che alla fine Wingle Fa entrambe le cose Va bene Niente di che Dovremmo allenarlo un pochino Quindi direi Possiamo anche lasciarci così E lo facciamo una prossima volta Sennò qua non si va da nessuna parte Sennò qua non si va da nessuna parte